Su dobbiamo solo la gamba destra in alto, tesa. Le mani dietro con faccia e allungo. Puglia con quella matisilla. Amore di Elia. Scendo piano, lentamente, subiamo la carta a sinistra, le mani dietro anche il palcio. Capiglia, amantiede, e lentamente scendo, appoggio le piante dei piedi sopra la citta. Ok, stendo le gambe, inspiro, sollevo la nuova lombare, appoggio e inspiro, sollevo e inspiro mentre stendo, appoggio. Alla prossima, rilasso le gambe completamente in extravattazione, le braccia rilassate dove viene più comodo, inspiro e inspiro. Se oscilla, lascia me andare. Concentro su me spiero. Alla prossima, Alla prossima, rilasso le gambe, Sì, rimango dal centro, qualche sconto, lascia stare, provate a sentire l'impresanza eterna, lascia stare completamente. Rimostiamo le gambe sulla scelta, incrociamo a livello della camiglia, cerchiamo un butterfly, spicco la schiena completamente a terra, prendendo il senso verso l'alto e uscirlo. Spostando le tracette dietro, l'unione di adonare di questa scelta e gara, accorgo bene le spalle in questo modo e respiro bene. Torno davanti agli occhi. E solo con la mano destra, appoggio la sinistra, tengo l'uscidazione in alto, girando il bambino per il verticale. Ok, apro, finché quando il braccio non spulca a terra, e torno. Andiamo a scattiare il braccio, la verso degli occhi, apro, tutti questi movimenti circolari, e torno. E continuo, vedete che in questo modo, l'allenamento a donna e respiro, anzi in fase di relax, c'è sempre, in maniera tale da ottenere più componenti e variati in allenamento. Ok, in maniera tale da ottenere più componenti, e poi dopo... Ok, clamor, in maniera tale, maniera tale, insomma, insomma, a volte, attenzione, assieme, in maniera tale da ottenere più棋ità in maniera tale, che sia solo il bambino per 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 il basso. In maniera tale, insomma, in maniera tale da l' GoPro, che sia un'altra, e con l'alto, in maniera tale, e quindi, in maniera tale, che non esperto. Ci mettiamo il quadrupedia sulla fronte e appoggio, mi spingo avanti, punto i piedi, guardo avanti, e con la posizione, proviamo a portare le mani sulla feet, spostandoci in questa posizione, e spostatevare, portando il quadrupedia su un bronzo, ma in realtà da favorire questa posizione, spingere le piattine, pur essendo avvantaggiati dall'aria dell'articolo. Porto l'espaniente, flettendo, scendere l'ombre. Ok, e adesso vi lascia da vedere. Il corpo rimane sotto le spalle, leggermente nella scuola rotazione, sollevo portando l'ultimo e riflessi il corpo del piede vicino e in arco. Scendo, rilascio, lascio da giù, lo rifacciamo un'altra volta. Il corpo rimane sotto le spalle e inizierta. Il corpo rimane sotto le spalle e inizierta. Il corpo rimane sotto le spalle e inizierta. Scendo, poggio. Allora, poggio con i glutei sul pallone. Allora, prima di scendere completamente in avanti, mi allungo e mi lascio andare giù completamente. Un momento. Inizierta a destra, stringe verso sinistra, gomito sinistra a terra. I glutei non si muovono dai palloni. Le roi. Abbiamoarti si era subendo. Un momento. Inizierta. Oggi. E inizierta. Loégio. Scegliamo, scendiamo, scendiamo in avanti ancora utilizzando l'opera, questo esercizio posturale è quello che riuscite a fare. Gli avanti essi sono a terra, la mano sinistra appoggiata, bisogna ispirare, spingere in avanti e oscillare, anche poco ma va bene. Ok, apro e appoggio. Apro bene le mani e spingono sul basso, guardo avanti, ispiro, male sotto le spalle, andiamo dall'altra parte. Bene, scendo, apro e mette, scendo. Ok, rivolgo, scendo e sollevo. Appoggio e andiamo con la schiena sulla vita. Appoggio e conflitto e lascio andare gioco. Ognuno di voi lascia un allungamento per quello che riesci a fare. L'asso, allungo. La prima volta è l'asso, allungo. E' un'esso, allungo. E' un'esso, allungo. E' un'esso, allungo. E' un'esso. mette, ok, allora, vi appoggiate in questo modo il ginocchio, vedete, in questo modo, e provate a lasciarmi stare giù, rilasso, se volete potete anche preferire le caviglie, come se fosse una lettura completa, solo che siete accacciati. Lettamente torno, chiudo, mi spiego avanti, le mani dietro la bocca, metto verso lo sterno, ed espiro. Scegliamo, lentamente, e quando lo stessiamo, lasciandoci andare giù. Scegliamo. 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 Vuelvo avanti, respiro, sollevo, schieno le spalle dietro, uno, due, tre, schieno avanti, o no, due, tre, schieno profondo, su, quadra, su, l'ultimo, ok, grazie mille, e buona giornata. Grazie.